Per Notizia della Comune ci troviamo a Torino, alla Clan Fitness di Via Spoleto. Questa è la piscina del Clan, una delle tante strutture a disposizione dei clienti e degli associati che vengono qui a mettersi in forma. Si possono fare acquagym e acquastep, ma oltre a questa attività, se io non volessi farle, cosa potrei fare qui? Beh, basta nuotare. Effettivamente. Il Centro Clan Fitness 2 è davvero dotato di ogni struttura possibile ed immaginabile a disposizione degli iscritti. Qui ad esempio siamo nella sala con muri da arrampicata con diverse difficoltà. Provare ad arrampicarsi per uno che non è molto in forma non è consigliato. Clan Fitness è anche e soprattutto idee nuove e moderne a disposizione dei clienti. Qui siamo nella sala dedicata agli armadietti personali. È possibile infatti noleggiare un armadietto in cui riporre le vostre cose per averle sempre a portata di mano. Siete fuori? Non avete tempo di passare da casa a prendere il borsone? Con il vostro armadietto personale. Potete venire in palestra quando volete. Clan Fitness è anche servizi per coloro che hanno scelto l'armadietto personale. È a disposizione un servizio lavanderia ad uso gratuito per lavare i vostri panni e poi depositarli tranquillamente nel vostro armadietto personale. Entrando in Clan Fitness ci si può sentire anche come Robert De Niro nel film Toro Scatenato in cui interpreta Jack Lamotta. Il clan Fitness è anche Squash con campi a disposizione dei clienti certificati dalla Federazione Italiana Gioco Squash. Come in ogni centro clan fitness non può mancare l'area dedicata alle attività marziali. Un ampio spazio per attività ad ampio raggio. Ci troviamo davanti all'ingresso dello spazio chinesi, su una delle zone più innovative dell'intero clan fitness. Seguitemi perché in questa zona si può fare davvero qualsiasi cosa. Abbiamo attrezzi innovativi e possono essere utilizzati con creatività per il benessere fisico. Italiana Gioco Squash moderna del Clan Fitness 2 di Via Spoleto, si tratta di una sala in cui sono presenti gli attrezzi più innovativi della Tecnogym e tutti i pesi sono legati a delle macchine, quindi non ci sono più pesi liberi per lavorare su tutti i gruppi muscolari con la dovuta attenzione. E qui in che sala ci troviamo? Questa è la sala classica per la muscolazione, è la sala pesi dove trovi tutte le varie macchine, sia pesi liberi che macchine isotoniche, se vuoi ti porto a vedere... Dai, faccio un gioco. Cosa stai facendo adesso? Questa è una macchina classica per potenziare le gambe, lavorano tutti i muscoli delle gambe, semplicemente vado a stendere le gambe e scendo in questo modo, movimento lento. Sembra semplice da fare. Semplice, poi dipende da quanto carico metti, dal tipo di lavoro che poi noi ti andremo a far fare, che sono dei programmi differenziati da persona a persona. Un modo gentile per dire che fatti così sì. Bravo, perfetto. Questa è la zona spinning, una delle più significative, proprio perché l'ambiente dello spinning punta a ricreare un'esperienza virtuale di allenamento che a seconda dell'istruttore è più o meno faticosa. Il nostro obiettivo è comunque seguire ogni cliente passo a passo, quindi seguire i suoi obiettivi, cercare tramite gli allenamenti e tramite la continuità nell'allenamento di far raggiungere tutti questi obiettivi, cercando comunque anche la possibilità di divertirsi, non sempre fare solo fatica, ma anche il divertimento è molto importante per noi e per i nostri clienti. Lo stile clan è abbinare a delle splendide strutture, delle attrezzature all'avanguardia che non hanno uguali su tutto il territorio della regione Piemonte, oserei dire. Il personale migliore e meglio disposto nei confronti della clientela per offrire un servizio veramente di alto livello. Abbiamo un programma molto in breve che chiamiamo T-Man, abbiamo dei ragazzi che sono i tutor e ogni nostro utente, ogni nostro iscritto ha diritto, ogni volta che vuole, sotto il nostro controllo e il nostro monitoraggio, a una consulenza specifica in un ambiente riservato dedicata prettamente a lui per discutere con il tutor del proprio miglioramento, della propria progressione fisiologica. Dopo le traversie di un lungo allenamento qui a Clan Fitness in via Spoleto ci si può anche riposare con un bel piatto di pasta o una pizza con forno a legna, vi assicuro che ne vale la pena.